Le raffiche di vento delle ultime ore hanno creato disagio alla circolazione lungo la Gela Caltanissetta, diversi alberi sono finiti lungo il tratto viario, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, anche in città si sono presentate delle difficoltà, molti bagnanti hanno lasciato rapidamente le spiagge a causa della pioggia.